44 anni è strano, è una specie di scarafaggio su una gamba lui che colonna che ha? un cervo volante come è Paolo? un cervo volante, una famiglia di coleotteri a vola non fa mica nulla però che morde io dico che questo nemmeno morde Paolo no no questo è il nostro ma come sta? questo lo sai che c'è di buono invece Paolo questo ammazzare mosche, ammazzare zanzare no quello io non ho ma io sono qui dove andrà? ecco che vuole da me? ciccio ah si butta addosso a lui vai continua su strada monta domingo, guarda lì oh non si ferma eh non si ferma non tu non dire con le galline eh peccato viene su eccoci qua sul cellulare metto nell'erba via giù ti metto nell'erba se no te grazie grazie a lui grazie a lui